Questi giorni siamo mortificati per tutto quello che è stato pubblicato riguardo a questi ragazzi. È una comunità scossa fortemente provata da quanto accaduto quella di Ruffano in Salento e qui in località Mocorone che secondo quanto contestato dalla procura di Lecce venerdì sera si sarebbe verificata una violenza sessuale nei confronti di una dodicenne da parte di alcuni ragazzi, tutti minorenni. Ed è proprio la giovanità dei protagonisti della vicenda che ha spinto la commissione comunale e l'assessora alle pari opportunità di intervenire su quanto accaduto non entrando nel merito della vicenda riguardo la quale spetta fare chiarezza agli organi competenti. Ricordiamo che si tratta di minori, indipendentemente dalla vittima, dai colpevoli sarà la magistratura a stabilire, comunque a svolgere le indagini e fare chiarezza. Noi siamo vicini comunque alle famiglie, a tutti i ragazzi che sono coinvolti in questa storia. Chi denuncia è oggetto di discussioni, di odio e questo non va bene perché soprattutto la violenza genera violenza. L'invito dell'amministrazione comunale di Ruffano nei confronti dei cittadini e alla prudenza e alla moderazione. Solo pensare a tutelare i nostri ragazzi indipendentemente da tutto e dobbiamo evitare che ci sia un clima d'odio. Questo è bruttissimo perché in rete sta circolando di tutto e questo non va affatto bene per una comunità matura come la nostra. Sono le forze dell'ordine che devono appurare. Tutti gli atti dovrebbero stare a protezione perché stiamo parlando di minori. Non possiamo mandare all'agonia dei ragazzi e rovinargli la vita. Quindi la comunità dovrebbe pensarci due volte prima di scrivere cose che poi vanno a ledere una persona per sempre. Lunedì 25 novembre intanto è stata programmata una giornata di sensibilizzazione e di confronto sulla violenza di genere organizzata dall'assessorato alle pari opportunità che promette continuerà a non far mancare occasioni di dibattito sul tema.